adesso? ah ecco si infatti un po' alla volta si è girato va bene certo dopo potete farlo ma era allenamento questo? si parte? una a zero per lo scatti a dare il signo grazie 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 2 a 0 3 a 0 3 a 1 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 4 a 0 4 a 0 4 a 0 3 a 0 4 a 0 4 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 6 a 0 5 a 0 6 a 0 6 a 0 6 a 0 6 a 0 7 a 0 8 a 0 8 a 0 Grazie. 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 6 a 5, perdonate Ceppino. 6 pari. 7 a 6, perdonate Ceppino. 8 a 6. 9 a 6. 10 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 a 6. 11 a 6. 11 a 6. 11 a 6. 11 a 6. 10 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 a 6. 11 a 6. 10 a 6. 11 a 6. 12 a 6. 12 a 6. 11 a 6. 12 a 10 13 a 10 14 a 10 14 a 11 15 a 11 15 a 11 15 a 12 15 a 11 Grazie. 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 Buon appetito. 17 a 13 18 a 13 18 19 19 20 20 21 22 23 23 24 25 25 27 28 28 30 19 a 13 19 a 14 19 19 a 15 19 a 16 19 a 17 19 a 16 19 a 16 20 a 17 19 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 a 18 20 a 17 20 a 18 20 a 18 20 a 19 20 a 19 20 pari, incredibile, 1 a 0 per Locate Varesino, 21 a 20. Grazie a tutti. Wow. 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 Wow.